La farmacia comunale di Pietrasanta si amplia e apre a nuovi servizi per gli utenti. La nuova definizione infatti è farmacia dei servizi e una volta terminato l'iter autorizzativo da parte dell'azienda sanitaria sarà in grado di erogare tutta una serie di esami, tra cui l'eletto cardiogramma, attraverso l'ausilio della telemedicina. In questo modo sarà possibile alleggerire anche la pressione sulle strutture sanitarie. I nuovi ambulatori sono stati ricavati acquisendo dei locali adiacenti alla farmacia, il cui front office è stato quasi raddoppiato. La farmacia si è rinnovata appunto per aspettare questo servizio. È venuto fuori un decreto legislativo in cui ci autorizza a fare certi servizi in farmacia, per cui noi abbiamo adeguato i locali, ne abbiamo preso un altro, abbiamo allargato la farmacia appunto per fare queste cabine. Ci saranno tre cabine, una per l'elettro cardiogramma, una per l'ortel e l'altra per la pressione e l'autoanalisi. Quando partirà questo servizio noi saremo in grado di allargare un servizio e potremo aiutare la popolazione che è in grossa difficoltà perché nell'ospedale deve aspettare dei mesi. Questo è il nostro principale scopo. Fulcro centrale della nuova accoglienza per la clientela, l'albero della vita, elemento architettonico che richiama la creazione dell'architetto Renzo Piano, ma che vuole essere qualcosa di più di un semplice elemento decorativo. L'albero della vita che voi vedete qua rappresenta il futuro dei bambini, nel nostro caso bambini bisognosi. Noi quest'anno daremo un contributo notevole, dipende dall'utere che abbiamo, ai bambini bisognosi. Penso che il Comune mi autorizzi a darlo a San Bartolomeo, che è la chiesa che è lì che ha i bambini bisognosi. Alla rinnovata farmacia l'amministrazione comunale ha affidato la statua del Dio Esculapio, protettore della medicina, nel bozzetto che era custodito nel museo e che adesso accoglie gli utenti all'ingresso della farmacia.